La morte cruenta del 75enne lacchese Angelo Mennella, avvenuta a seguito del volo che ha fatto dal quinto piano della palazzina dove abitava, nel quartiere della 167 L'Acquameno, ha allungato il già lungo elenco di suicidi avvenuti negli ultimi tempi sulla nostra isola. Una statistica fin troppo preoccupante, alimentata da situazioni di turbamento psicologico, la famigerata depressione, che non risparmia nessuno, giovani ed anziani. In una mente già scavata da situazioni di disagio, può esserci un fatto scatenante che determina l'escalation, fino ad arrivare all'estremo gesto di togliersi la vita. Per Angelo Mennella dovrebbe aver influito negativamente sulla sua mente l'improvviso ictus che ha colpito la consorte, costretta a un ricovero presso una struttura ospedaliera napoletana. Il gesto di lanciarsi nel vuoto, statisticamente parlando, non è il modo più comune utilizzato per togliersi la vita. Detto in maniera nuda e cruda, i più, a guardare i dati degli ultimi due anni, preferiscono l'impiccagione, forse più immediato, sicuro e più pulito. Ciò che preoccupa di più effettivamente sono i numeri per un'isola piccola come la nostra con i suoi circa 60.000 abitanti. Quattro sono finora i suicidi dell'anno in corso. Oltre ad Angelo Mennella bisogna andare un mese indietro, a quel settembre che ne ha visti ben due. Il 69enne Mario Mosca, l'uomo delle graffe, avvenuto il primo settembre, ed il 66enne Giovanni Climaco, ex commerciante di scarpe, morto l'11 settembre. Il 26 giugno il 49enne Gennaro Palamaro, ex guardia giurata, si è sparato un colpo di fuciglie. La statistica si fa più cupa se guardiamo i dati del 2014. L'anno scorso sono morti in tre. Il 12 aprile si è tolta la vita impiccandosi l'ex insegnante 67enne Caterina Zanghi. Il 7 agosto è morto il foriano Carmine Castaldi, lanciatosi nel vuoto del soccorso a Forio il 14 maggio, e morto per le ferite subite tre mesi dopo. Il 25 settembre l'85enne Maria Teresa Iacono è morta in un pozzo a succhivo. Ma se fossero andati a buon fine, per così dire, i quattro tentativi posti in essere tra maggio e dicembre 2014, i numeri sarebbero stati ben diversi. Un 19enne Casamicciolese il 23 maggio, un 50enne Lacchese il 13 dicembre, una 23enne Giovanni Casamicciolese il 21 dicembre. E la società isolana come reagisce a queste notizie? Oltre alla curiosità bramosa che muove la ricerca dei particolari, qualcuno si è posto il problema di come tentare di prevenire questi gesti estremi? E le istituzioni? Senza scendere nella polemica, basta prendere in prestito le parole espresse dal Vescovo di Ischia, Monsignor Pietro Lagnese, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno pastorale diocesano. Mi preoccupa, ha detto il Vescovo, l'aumento del disagio sociale, il fenomeno consistente del disagio psicologico in genere, e in particolare il fenomeno della depressione, come pure il numero impressionante di decessi per suicidio. E tutto ciò, mentre qui ad Ischia, dice il Vescovo, sembra che l'attenzione per queste problematiche, già non molto viva in passato, vada da parte delle istituzioni ancora più scemando. Ed in queste ore la chiusura della SIR da parte della nostra ASL. Grazie.